Un incendio è scoppiato questa mattina nell'ex stir di Battipaglia. Le fiamme si sono propagate nel capannone presso il quale viene depositata la parte organica stabilizzata dei rifiuti. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Numerosi i disagi registrati per quel che concerne il conferimento dei rifiuti provenienti dai vari comuni. Parecchi camion infatti sono rimasti bloccati per ore sotto il sole perché impossibilitati ad entrare. Ancora ignote le cause dell'accaduto. Siamo stati avvertiti che c'era in atto un principio di incendio nel capannone che è adibito ad ospitare la frazione organica stabilizzata, che sarebbe praticamente l'umido che viene tratto dall'indifferenziata. Quando siamo arrivati, i giunti erano già in azione i vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a limitare i danni, a delimitare l'incendio e quindi a spegnerlo. Ci siamo anche preoccupati ovviamente di allertare immediatamente tutti quanti gli organi sovracomunali che si occupano di tutela, quindi ARPAC e istituto profilattico. Abbiamo confrontato immediatamente i dati che abbiamo potuto trarre dalle centraline che sono site nel territorio comunale, proprio a confine con la zona industriale, che ci hanno restituito però dei dati che sono assolutamente tranquilli, anche perché la durata dell'incendio è stata veramente di pochi minuti e la qualità del prodotto che si è incendiato è biostabilizzato, quindi non ha destato problemi da questo punto di vista. Quello che desta invece problemi è questa ciclicità nel verificarsi di questi episodi e quello ci fa riflettere. Le cause dell'incendio? Sono in atto le indagini prima dei vigili del fuoco e poi eventualmente dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda invece i ritardi registrati nel conferimento da parte degli altri comuni, com'è la situazione? Perché si è parlato di code all'ingresso ovviamente dei camion che non hanno potuto conferire i rifiuti. Ovviamente oggi la problematica si è accentuata, visto la concupitanza dell'incendio, però effettivamente c'è un rallentamento nello sversamento perché c'è una delle linee del termovalorizzatore di Acerra che è ferma. Io dico sempre che questo è purtroppo ciclico, quindi se dallo stir non riescono a smaltire al termovalorizzatore, lo stir non si libera e non può accogliere altri rifiuti. Noi abbiamo più volte sollecitato sia il prefetto, sia la regione Campania, sia la provincia a individuare un nuovo sito per lo sversamento dei rifiuti indifferenziati perché purtroppo stiamo andando incontro a una possibile emergenza rifiuti.